Più 22% di ordini acquisiti, 236 milioni di ricavi. Sono questi dati approvati dalla CDA del gruppo Trevi e relativi al bilancio del primo trimestre dell'anno in corso. Un andamento confermato anche dal portafoglio ordini con un più 39%. Il risultato netto è invece negativo per 19,8 milioni di euro contro i 29,2 precedenti, con una posizione finanziaria netta totale pari a 274 milioni, mentre nel 2021 si attestava a 251 milioni. Il Consiglio di amministrazione ha anche deliberato l'approvazione del piano industriale consolidato per il quadriegno 2022-2026. Tra i principali obiettivi del gruppo Cesenate è stata fissata una crescita dei ricavi con un CAGR pari circa al 5% e una marginalità che passi progressivamente dal 10% circa, atteso nel 2022, a circa il 13% alla fine del periodo di piano. Nel CDA è stata inoltre approvata una manovra finanziaria relativa all'operazione di rafforzamento patrimoniale e alla ristrutturazione dell'indibidamento del gruppo, come sottolineato da Trevi.